Avviso scoperto, l'informazione senza veli con Matteo De Micheli. In questo momento investendo particolarmente i cittadini di Roma, i cittadini romani, e mi riferisco a questa follia, almeno sulla carta, di questa nuova ZTL che diventa gigantesca e all'interno della quale possono circolare solo i veicoli che i loro signori ritengono meno inquinanti. Quindi sull'onda di questa panzana galattica dell'emergenza climatica si vanno a impoverire ulteriormente le fasce di popolazione più deboli e il fine, come vedremo, purtroppo è quello di non fargli comprare l'auto elettrica, ma quello di fargli andare a piedi per sempre. Quindi quando ci dicono che devi utilizzare l'auto elettrica, ci stanno dicendo che devi andare a piedi, non avrai più una macchina. E la stessa cosa quando ci dicono che dobbiamo rendere le case green, ci dicono semplicemente che tu non avrai più una casa. Quindi questo è proprio l'esproprio della proprietà privata, come purtroppo sta avvenendo in Spagna, dove già stanno espropriando le case vuote, le persone ambienti, le stanno espropriando. Quindi tutto questo noi abbiamo iniziato a viverlo con questa pandemia, che è stata sorretta da una falsa narrazione, questo virus mortale per il quale non esistevano le cure. E poi quindi non esistendo le cure tutti quanti dovevano farsi le pere, una, due, tre, quattro, cinque, insomma, chi più ne ha più ne metta. Invece, come sappiamo benissimo, questo virus, grazie al cielo, non era mortale e soprattutto era assolutamente curabile, anche con farmaci da banco. Ecco, questo poi l'ha scritto anche il Mario Negri, insomma, non ci stiamo inventando niente. Però, cosa è successo? Le persone terrorizzate, un po' anche bombardate da questa propaganda violenta, da questa operazione di guerra, vera e propria guerra psicologica, che poi non si riferisce solo al nostro paese, ma a tutto il mondo, sono corsi a farsi il Green Pass. E in questo modo hanno diviso i buoni e i cattivi. E quando tutto questo è successo, io la prima cosa che ho detto, occhio, perché sì che ti fai il Green Pass e ti chiedono di farti una puntura. E magari te la fai volentieri. Innanzitutto, poi hanno incominciato a dire, da un anno vale sei mesi, poi vale tre mesi, e in base a quante pere, dovevi rifarti la pera per ricomprarti la tua libertà. E quindi, insomma, le persone hanno ceduto i propri diritti, in cambio di un lascia passare. E una volta fatto questo passo è finita, avete ceduto la vostra libertà per sempre. E ci avete anche tirato dentro questa cosa, noi che siamo stati massacrati, espulsi dal lavoro, sospesi, emarginati, e ci hanno detto di tutto e per di più, voi avendo accettato il Green Pass, diciamo che insomma, avete trascinato anche chi non voleva in questa follia. E la conseguenza del Green Pass è il controllo. È il controllo che si estenderà a tutto, tramite l'identità digitale, tramite le telecamere a riconoscimento facciale, tutto ciò, con l'aumento di tutto questo, diminuirà sempre di più la nostra libertà. E ci esproprieranno di tutto, oltremmeno l'obiettivo è quello, vogliono farci andare a piedi, vogliono rintanarci chiusi in città. Quindi l'obiettivo finale è quello che noi saremo costretti a vivere in un quartiere di 15 minuti. Anche le vacanze diventeranno un miraggio e saranno sostituite con il metaverso. Ecco, che fantastico questo mondo. Allora, andiamo a vedere un secondo cosa dice questo nuovo regolamento. Dal 1 novembre 2023 il divieto di accesso alla fascia verde sarà esteso anche alle auto diesel, Euro 4, nella fascia 7,30, 20,30, e ai veicoli commerciali N1, N2, N3, sempre alimentati a gasolio Euro 4, nella fascia oraria 7,30, 10,30 e poi 16,30, 20 e 30. Lo stop vale anche per i ciclomotori e i motoveicoli alimentati a diesel Euro 3, che in questo caso penso che siano veramente pochi. Dal 1 novembre 2024 lo stop riguarderà sempre, dal lunedì al sabato, anche le auto a benzina Euro 3 e ai diesel Euro 5, nella fascia oraria 7,30, 20 e 30. Cui si aggiungono i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 5, insomma, nei stessi orari. Insomma, Gualtieri di fatto dichiara guerra ai romani meno abbienti, perché si parla, qui si sta parlando di 400.000 automobili da sostituire, 400.000, 35-40.000 a novembre di quest'anno e le restanti negli anni successivi. Ecco, e in tutto questo c'è gente che comunque ha investito dei soldi per comprarsi le automobili anche abbastanza recentemente. Si trova con un'automobile che ha un valore commerciale, magari anche abbastanza elevato, e dovrà buttarla via. Se dovesse entrare in vigore oggi questa normativa, impedisce perfino di parcheggiare la macchina per la strada all'interno di questa fascia verde. E quindi è evidente che la volontà che tu devi prendere quella macchina, la devi buttare via. Ecco, perché poi mi devono spiegare che mercato potranno avere tutte queste macchine, dal momento che per esempio a Milano questa cosa Sala l'ha già fatta ed incredibilmente i milanesi se la sono ciucciata, se la sono presa senza praticamente dire una parola. Meno male che i romani, insomma, hanno iniziato molto timidamente a protestare, molto timidamente. C'è stata una protesta in Piazza del Campidoglio, qualche centinaia di persone. Sempre meglio che niente, perché diciamo che sarà perché a Roma, se c'è una manifestazione la mattina, la pomeriggio, la sera, i romani non sono così avvezzi a partecipare e a manifestare, insomma, a protestare. Però sembra veramente che questa volta molte persone siano veramente, veramente scese sul piede di guerra. C'è altrettanto da dire che c'è una mancanza totale di informazione, per cui molte persone non lo sanno, non sanno quello che sta per accadere. La conseguenza sarà che prenderà la multa chi avrà la macchina parcheggiata sotto casa, ma anche chi continuerà a percorrere magari le strade che fa tutti i giorni. Poi ci sono delle follie. Grazie a tutti.